40 giorni di prognosi per i 56 anni di Campo di Giove che la vigilia di Natale è stato investito sulla quattro corsie fra sul mone bagnaturo in sella alla sua bici, un impatto violento con una Fiat Panda guidata da una donna. Le sue condizioni non sono mai apparse gravi, tant'è che il ciclista ferito non è fortunatamente in pericolo di vita, ma ferite e scorreazioni costringono l'uomo a 40 giorni di prognosi, non uno scherzo insomma. Dall'impatto con l'auto il ciclista di Campo di Giove avrebbe riportato, stando alle prime informazioni, escoriazioni e ferite alle vertebre e al femore. Sul posto è intervenuta la polizia per rilievi di rito e per accertare eventuali responsabilità, mentre un'ambulanza del 118 ha accompagnato il ferito al nosocomio dell'annunziata.